Avete appena comprato un nuovissimo laptop come questo Surface Laptop 4 e vi state chiedendo non solo come aumentare la durata della batteria, ma anche come aumentare le sue prestazioni nel tempo. Bene, siete nel posto giusto! Ciao amanti di Surface, sono Gianfranco e lavoro con Microsoft come Digital Trainer e benvenuti su Microsoft Expert Zone Italia, il canale ufficiale che riunisce fan e curiosi di prodotti e servizi Microsoft, come Surface, Office, Windows, ma anche Xbox. Se siete appassionati di tecnologia e volete restare sempre aggiornati con guide e vari tutorial, vi invito a iscrivervi. Per aumentare al massimo la durata della batteria e dei vostri dispositivi Surface dovete solo seguire dei piccoli accorgimenti. Per prima cosa cercate di non lasciare mai i vostri dispositivi Surface in carica per troppo tempo. Lasciare un dispositivo sempre in carica può non solo danneggiarne la longevità, ma anche diminuirne le performance di durata. Ovviamente potete lasciare il dispositivo connesso alla corrente tutto il tempo necessario mentre state lavorando, ma ricordatevi almeno una volta al mese di lasciare che il vostro dispositivo Surface si scarichi fino a raggiungere circa il 10% di batteria. Per ottimizzare la durata dei vostri dispositivi Surface cercate di tenerli in posti freschi e asciutti quando non li state usando e ricordatevi di aggiornarli regolarmente tramite il comodo Windows Update. Tenere il vostro dispositivo aggiornato vi permette di avere accesso alle ultime funzionalità rilasciate. Mantiene il sistema operativo ottimizzato e veloce e aumenta la vostra sicurezza contro virus e malware. Se invece avete bisogno di maggiore durata della batteria durante il vostro uso quotidiano, o siete lontani da una presa elettrica, o al contrario desiderate aumentare le prestazioni, quando state lavorando a un progetto molto pesante, potete seguire questi semplici accorgimenti, che permetteranno ai vostri dispositivi Surface di aumentare il rendimento in entrambe queste situazioni. Fate clic sull'icona batteria nel lato basso della vostra barra delle applicazioni e scegliete una delle due opzioni, massima durata della batteria o massime prestazioni. Attivando massima durata della batteria andrete a fermare tutti i programmi attivi in background, diminuendo momentaneamente il consumo del vostro processore e di una buona percentuale anche la luminosità dello schermo, andando ad ottimizzare invece la durata della batteria, delle applicazioni che state usando. Un consiglio bonus che spero vi sia utile in futuro è quello di pulire la punta del vostro caricatore Surface. La punta dell'alimentatore Surface è magnetica e se riposta in zaini e borse può attrarre magneticamente piccoli frammenti e polveri che con il tempo possono sporcare l'alimentatore e rallentarne il funzionamento. Semplicemente passate la punta del vostro alimentatore con un panno asciutto e pulito per rimuovere questi residui e tornare ad avere una connessione perfetta. Per altri consigli preziosi su come ottenere il massimo delle prestazioni sui vostri dispositivi Surface, vi consiglio di guardare questi altri video ed iscrivervi al canale per non perdervi nessuno dei prossimi contenuti. E con questo è tutto, un saluto e ora continuo a divertirmi con il mio Surface.